Buongiorno, benvenuti all'intervallo del 21 dicembre 2020. Alghero, cattedrale. La Maddalena, tomba di Giuseppe Garibaldi. Nicosia, cattedrale. Noto, cattedrale. Varga, casa. Natale di Giovanni Pascoli. Firenze, chiesa di San Marco. Prato, cattedrale. Siena, basilica di San Domenico. Napoli, chiesa del Gesù Nuovo. Siena, basilica di San Domenico. 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 Grazie a tutti.